Una rete di Mortaro condanna la Sansovino a Todi. Nel finale i savinesi sprecano una grande opportunità con Mannucci in casa. Arancio Blu la situazione resta critica soprattutto dopo la penalizzazione. Nell'anticipo di sabato netta affermazione del deruta a Castellerigone. Vent'anni porta in vantaggio i ragazzi di Scattini che replicano nella ripresa con il potente Regnicoli. Nel finale chiude il conto l'ex Grifone Fiordiani. Partita ricca di gol anche a Terni. Nori apre le danze per lo Sporting. La Viterbese replica con Sabatino. Picchioni riporta in vantaggio la formazione ternana. Morini si esalta, prima pareggia e poi firma il sorpasso della Viterbese. Nel finale l'esperto Grandoni fissa il risultato in maniera definitiva. Il Sansepolcro batte la Flaminia e vola verso Lidi Tranquilli. Bel momento dei bianconeri, eccezionale quello dell'attaccante Rovella che realizza un altro gol pesante. Il Pier Antonio da parte sua conquista tre punti d'oro a spese di una Pontevecchio sempre più in crisi. Decisivo un calcio di rigore trasformato da Cortese. Botta e risposta Trestina. L'Arezzo abbandona le sue residue e speranze per la vittoria finale. Vantaggio con Rubechini che segna sotto misura. I padroni di casa pareggiano con un discutibile calcio di rigore trasformato dall'esperto Mancini.